Lo scorso anno in 800 parteciparono per questa edizione la numero 28, l'Atletica Cologna Spiaggia, che organizza la manifestazione, spera di confermare i numeri della passata stagione. Nasce nel ricordo della dottoressa Annalia Rongai, la maratolina colognese, ma non solo. Ci sono più percorsi, la gara podistica vera e propria si snoda su un tracciato di 10 km e poi la passeggiata di 4 km non competitiva. Il raduno è in via dei campi all'altezza del parco pubblico, ma ascoltiamo gli organizzatori. Questo è il ventottesimo anno che facciamo questa manifestazione qui a Cologna Spiaggia, c'è anche il terzo Memorial Aldo Patacca, che è riservato solamente ai ragazzi. Già ieri sera abbiamo circa 170-180 ragazzi iscritti per il Memorial. Quanti saranno invece i partecipanti per la gara competitiva? Allora, noi l'anno scorso abbiamo fatto quasi 800 iscritti, quest'anno chiaramente puntiamo a fare meglio. Soprattutto speriamo a coinvolgere ancora di più i bambini, i ragazzi e soprattutto i colonnesi per la passeggiata non competitiva. Come si snoda il percorso? Intanto sono diversi i tracciati. Sì, il percorso è quello storico, che praticamente sono due giri lungo attraverso il paese, con la salita quella storica che è stata sempre fatta. Da due anni a questa parte è stato aggiunto un piccolo giro al mare, in questo modo la corsa è stata allungata a 10 km dagli 8 di prima. Il percorso della non competitiva invece si snoda tutto lungo il lungomare, mentre i ragazzi percorreranno la via a fianco al parchetto alla partenza, per le diverse distanze a seconda della categoria a cui appartengono. E per quest'anno c'è anche una bella iniziativa, una novità assoluta. Quest'anno per la prima volta abbiamo voluto inserire nella nostra camminata un gruppo di disabili della piccola opera Caritas, che si sono preparati durante questi mesi per partecipare e anche aver loro una giornata di sport per coinvolgere anche le persone meno fortunate.